Capitolo 2 del Debrevitate Vite. Troppe distrazioni allontanano gli uomini da loro stessi. Seneca, nel primo capitolo dell'opera, si era dedicato alla riflessione sul tema del tempo, partendo dalla comune Lamentela, secondo cui la vita è breve e aveva sostenuto che, di fatto, è breve per chi non sa viverla in modo pieno. In questo secondo capitolo, l'autore sviluppa l'idea che l'esistenza umana, se la si usa bene, non è breve. Sono gli uomini a renderla tale poiché incapaci di edoperare il tempo in maniera proficua. Molti si perdono in occupazioni inutili che la allontanano da una vita autentica. Tra queste la brama di ricchezza, il commercio, l'attivismo, il vino. Ora è il tempo perso ad ascoltare i propri clienti o a contendersi un'eredità. Tutto questo avviene perché essi non si rendono conto che la vita è il bene più prezioso e i vizi non fanno altro che togliere spazio alla ricerca del vero e alla procopè o percorso verso la sapienza. Nessuno appartiene a se stesso, nessuno rivendica la sua libertà, nessuno si guarda dentro. Mentre ognuno è capace solo di lamentarsi e criticare i difetti altrui. Il pensiero di Seneca, espresso in questo passo, è ancora oggi molto attuale poiché l'uomo, lasciandosi trascinare da mille distrazioni, perde di vista il suo vero obiettivo, ossia quello di dare un senso alla sua esistenza. Leggiamo insieme i primi quattro paragrafi del capitolo. Il primo paragrafo di questo secondo capitolo inizia subito con due brevi battute. Quid, perché ci lamentiamo querimur della natura? Quella, illa, si è comportata gestit benignamente, sottinteso nei confronti dell'uomo. La vita, se la sai usare, è lunga. Si utiscias è una subordinata di primo grado, che consiste nella protosi del periodo ipotetico eventuale, la cui apodosi è longa est. Adesso vi è un lungo periodo che occupa quasi due paragrafi, dove l'autore fa un lungo elenco di esempi di vite sciupate, di tempo sprecato per scopi futili. Seneca, adattando comunque uno stile catalogico, sceglie un andamento apparentemente monotono, ma l'elenco è variato dal poliptoto anaforico, che costruisce una fenomenologia di coloro che non sono in grado di gestire il loro tempo. E appunto il primo elemento di questo poliptoto è Allium. Att Allium insaziabilis tenet avarizia, Allium in super vacuis laboribus operosa sedulitas, Allius vino madet, Allius inerzia torpet, Allium defaticat ex alienis, Iudicis suspensa semper ambizio, Allium mercandi preceps, Cupiditas circa omnis terras, Omnia maries pelucri ducit. Procedo con la traduzione. Insaziabilis avarizia, Un'avidità insaziabile, Tenet ne trattiene uno, Allium. Un altro, Allium, Sottintese il verbo tenet, Ne trattiene una faticosa diligenza, Operosa sedulitas, Che è questo operosa sedulitas, Si troverà in antitesi con la successiva inerzia che troveremo nel rigo successivo. Quindi una faticosa diligenza per fatiche superflue, In super vacuis laboribus. Allius, Un altro, È inzuppato madet, E questo verbo d'amadeo si costruisce con l'ablativo di abbondanza, In questo caso vino. Quindi un altro inzuppato di vino. Un altro, Allius, Torpet, Si intorpidisce nell'inerzia. Un altro, Allium, De fatigat, Sfianca, Quindi lo sfianca, Un'ambizione, Ambizio, Sempre sospesa, Sospensa, Al giudizio altrui. Allium, Un altro, Cupiditas, Un desiderio sfrenato, Di commerciare, Mercandi, Lo conduce attraverso tutte le terre, Circa omnis terras, E attraverso tutti i mari, Omnia maria, Con la speranza, Quindi l'ablativo spe, Di guadagno, Lucri. Quosnam torquet cupido milizie, Nunquan non, Out, Alienis periculis intentos, Out, Suis anxios, Sunt quos in gratus superiorum cultus, Voluntaria servitude consumat. Questo periodo appena letto, Inizia subito con una variaccia abbastanza evidente, Poiché anziché il poliptodo anaforico di Allium, Vi è il poliptodo anaforico di Quosdam. Gli altri due elementi di questo poliptodo saranno Quos e Quibusdam. Cupido milizie il desiderio per la guerra, Tormenta torquet alcuni quosdam. Nonquan non, Una doppia negazione che assume valore affermativo, Intentos, Intenti, O, Ai pericoli altrui, Out, Alienis periculis, O, Anziosi, Anxios, Pericolos per i propri suis. E il participio intentos e l'aggettivo Anxios hanno funzione attributiva di Quosdam. Sunt quos sarebbe una subordinata relativa impropria con valore consecutivo. Ci sono alcuni che è l'ingrato rispetto per i superiori che sarebbe ingratus superiorum cultus. Proprio questo termine cultus viene dal verbo colere, coltivare, ed è un'accezione traslata nel senso di fare la corte. Quindi che è l'ingrato rispetto per i superiori consuma, consumat, in una schiavitù volontaria, volontaria servitude. E questo volontaria servitude è uno simoro, poiché sono due termini antitetici fra di loro. Qui Seneca vuole porre l'accento sul fatto che la schiavitù nella quale si riducono queste persone sia da loro voluta. Adesso passiamo al secondo paragrafo. Multus out ad effectatio, aliene forme out sue cura detenuit. Tleros guenil certum sequentis vaga et inconstans et sibidi isplicens levitas per nova consiglia iactavit. Innanzitutto, multus è la variazio rispetto ai precedenti alium, alius, quosdam e quos. Procedo con la traduzione. Moltus molti detenuit li trattiene o ad effectatio aliene forme o il desiderio della bellezza altrui o sue cura. Quindi, o la lamentela per la propria, sotto intesa fortuna. Plerosque, i più, ni il certum sequentis, che non seguono nulla di certo. Sequentis in realtà sta per sequentes, è un arcaismo. Inoltre è un participio attributivo di plerosque. Una leggerezza, levitas. Levitas è l'opposto della costanzia, una delle virtù cardinali dello stoicismo. Seneca dedicherà un intero trattato alla costanzia sapientis. Dunque, riprendo. Una leggerezza, vaga, et, inconstans, incostante, e scontenta di sé, si bidisplicens, lo sottinteso, asballottolato, yaktavit, attraverso progetti nuovi, per nuova consiglia. Yaktavit è un verbo che rimanda metaforicamente al viaggio del mare. Inoltre, questo perfetto, yaktavit, insieme ad etenuit, sono perfetti ignomici, che hanno a che fare con un periodare sentenzioso e sono tradotti come presenti da noi. Qui busdam, ni il quo cursum derigant placet, sed, marcentis, oscitantis, fata, deprendunt. Il pronome indefinito qui busdam, ad alcuni non piace placet nessuna meta. Verso cui, quo, che è un avverbio di moto a luogo, dirigere derigant la rotta cursum. Sed, che introduce un'altra proposizione coordinata. Ma il destino, fata, li sorprendere, deprendunt, mentre sono intorpiditi e sbadigliano. Ovviamente, anche in questo caso, marcentis sta per l'accusativo plurale marcentis e oscitantis per oscitantis. Adeo ut quod apod maximum poetarum more oraculi dictum est verum est, non dubitem. Exigua parsa est vita qua vivimus. Adeo ut al punto che, che regge la frase consecutiva di primo grado, non dubitem, con prolessi del pronome relativo. Al punto che, io non dubito, non dubitem, che sia vero quello, verum est, sottinteso hoc, che è stato detto, dictum est, ammo di oracolo, more oraculi, apod maximum poetarum. È stato ipotizzato che si tratti di Omero o di Birgilio, ma secondo alcuni si potrebbe trattare anche di Menandro, a patto di sostituire a poetarum comicorum. Exigua, esigua, est, è la parte pars di vita in cui, qua, che è un ablativo di tempo determinato, viviamo. Ceterum, quidem, omne, spazium, non vita, sed, tempus est. Ceterum, del resto, senza dubbio, quidem, omne, spazium, tutta la durata dell'esistenza, non è vita, ma tempo. E questa è una delle più belle e folgoranti sintesi senecane. A proposito del termine tempus, secondo molti studiosi, questo termine deriverebbe dalla radice greca del verbo temno e indicherebbe una porzione di qualcosa di più ampio, che sarebbe levum. Da notare qui la contrapposizione tra vita come porzione del tempo realmente vissuta, esperienza pienamente fruita, e tempus come qualcosa di cui non siamo padroni e che scorre nell'incoscienza. Il terzo paragrafo inizia di nuovo ad elencare le distrazioni che possono allontanarci da una vita autentica. Questo primo periodo è una metafora militare della battaglia e del naufragio. Vizia, i vizi, e non permettono sinunt. Questo sinunt è un verbo servile, addirittura fresologico, che si collega con gli infiniti resurgere e attollere, infatti, e non permettono di risollevarsi o di sollevare gli occhi. Alla vista, in dispectum, del vero, veri. Ma schiacciano, premunt, sottinteso gli uomini, sommersi, mersos e infixos, inchiodati in cupiditatem, nella cupidigia. Mersos e infixos sono partecipi perfetti con funzione predicativa. Nunquam illis recurrere ad selicet, sicquando aliqua fortuito quies contigit, belut profundo mari, in quo post ventum quoque volutatio est, fluctantur nec unquam illis a cupiditatibus suis ozium stat. Nunquam, maia, quelli illis, è possibile, licet, ritornare in se stessi. Recurrere ad sé è un frequente richiamo di Seneca ai valori dell'interiorità. Quando è una forma debole dell'avverbio indefinito aliquando richiesta dalla precedente congiunzione si. Se qualche volta per caso fortuito è capitata con tigit una qualche tranquillità, quies, una sorta di pace che li possa allontanare dalle loro passioni che così li tormentano, contigit infatti è il verbo della condizionale, una subordinata di primo grado. Vellut profundo mari, come il mare profondo, in quo che introduce una relativa, una subordinata di primo grado, nel quale anche dopo il vento, post ventum, volutatio est, c'è agitazione, quindi una sorta di movimento di onde, ricollegandosi sempre alla metafora militare del naufragio. Fluctantur, che è il verbo della principale, si agitano, nec unquam, nemmai, per loro illis stat, c'è una sosta, ozium, dai loro desideri, a cupiditatibus suis. Questa appunto è una coordinata alla principale. Passiamo al quarto paragrafo. Deistis me putas dicere quorum in confesso malasunt, aspice illos ad quorum felicitatem concurrit, bonis suis soffocantur. Putas, il verbo della principale, pensi che io parli di cere, che è il verbo di una subordinata di primo grado oggettiva, pensi che io parli di questi, dei istis, nel senso di questa gente, iste anche nell'essicuratorio ha spesso valore peggiorativo. Quorum, che introduce una relativa di secondo grado, i cui mali, mala, sono, sunt, dichiarati, in confesso. In confesso, questa forma avverbiale, può essere tradotta con l'aggettivo scoperti, e viene da confite, o dichiarare, o ammettere. Quindi, ripeto la traduzione, pensi che io parli di questi, i cui mali sono dichiarati. Aspice, verbo della principale, illos ad quorum felicitatem concurrit, che è una subordinata di primo grado. Quindi, illos quelli verso la cui felicità ci si rivolge, concurriture impersonale. Adesso, lo sguardo di Seneca spazia sulla moltitudine di coloro che, in apparenza invidiabili per la loro fortuna, sono in realtà oppressi dal suo peso. Anche qui, il periodare sentenzioso scorre con frequenti anafore. In prima posizione, in poliptoto, infatti c'è quam molti continuis voluptatibus pallent, quam molti, nel liberi relinquit, circunfusus clientium populus, quam molti, per quanti molti è dativo di interesse, le ricchezze graves sunt, le ricchezze sono gravose, quindi sono un peso. Questo graves sunt è il verbo della principale, una prima principale, che poi vedremo avrà una serie di coordinate, e ogni verbo ha la sua coordinata. Quam multorum acquanti, eloquenzia et quotidiano ostentandi, quindi eloquenzia è la quotidiana preoccupazione dell'ostentare, ostentandi è il gerundivo, al caso genitivo singolare, riferito ad ingeni, quindi infatti la quotidiana preoccupazione dell'ostentare, il proprio ingegno fa sputare educit sangue. Sanguinem educit è una metafora, in generale questa frase, da quam multorum fino a educit, è un'allusione diretta a quanti quotidianamente si ammazzano per emergere, incuranti di instaurare un vero rapporto con se stessi, e di una gestione più saggia del proprio tempo. Quam multi, quanti, sono palli di pallent per i piaceri incessanti, continui voluptatibus, che è un dativo di causa retto dal verbo pallio. Di nuovo, quam multis, a quanti non lascia, relinquit, nessuna libertà, né i liberi, populus, che è il soggetto, quindi la folla dei clienti, clientium, ovvero coloro che si ponevano sotto la protezione economica di un potente, e dal loro numero si poteva dedurre il prestigio del patronus. Quindi la folla dei clienti che si accalca intorno, circunfusus. omnis, denique istos ab infirmis, usque, ad summos, per herra, ic advocat, ic ad est, ille periclitatur, ille defendit, ille iudicat, nemo se sibi vindicat, alius in alium consumitur. denique infine, omnis che sta per omnes insieme a istos tutti costoro, passa in rassegna per herra, dai più umili, ab infimis, fino ai più importanti, ad summos. Adesso vi sono tutta questa serie di verbi principali. ic, questo chiama un avvocato, advocat, ic, questo, sottinteso lo, assiste, ad est, ille, quello è accusato, periclitatur, quello difende, defendit, quello giudica, iudicat, nessuno, nemo, se si vivindicat, nessuno si vendica, a se stesso. Se vivindicat è un verbo importante, desunto dal lessico giuridico, è presente anche nella prima epistola dedicata all'ucilio, quella che è definita o minitrattato sul tempo. alius 1, si logra consumitur per un altro, quindi una sorta di consumarsi a vicenda. alius in alio, appena letto, si trova in corrispondenza parallela a se sibi. Seneca non vuole condannare la disponibilità verso il prossimo, ma ha la tendenza a perdersi in attività inutili. interroga, verbo della principale, quindi chiedi notizie, su costoro, teistis, quorum nomina ediscuntur, una relativa, quindi di cui si impara memoria e nomi, nel senso perché questi sono famosi. videbis, che è una subordinata alla principale, vedrai i sillos di nosci, un'oggettiva, con questo infinito presente passivo, che essi si distinguono per questi segni, per questi dettagli. quello il est cultur eff autore di quello ilius, ic questo di quello ilius, nessuno nemo sottinteso lo est e di se stesso sus, nel senso nessuno è seguace di sé, ovvero che nessuno appartiene a se stesso. questo. Grazie.